Nulla è possibile se ti diri del Signor Nulla è possibile se tu credi a Lui porco Dio ci tiene cieco a cosa che sia un po' difficile per me Sulla parola con te confida nel Signor Nulla è possibile se tutto è possibile se ti diri Nulla è possibile se ti diri del Signor Gloria, Gloria, Alleluia Gloria, Gloria, Alleluia Abbiamo trovato in Gesù la verità Che nessun uomo potrà mai calpestare Abbiamo trovato vita, luce e libertà La gloria del Signor Chi Gesù Cristo accetterà con tutto il cuore Ed avrà coraggio di seguire la verità Chi proclamerà la salvezza del Signor La vita eterna avrà Gloria, Gloria, Alleluia Gloria, Gloria, Alleluia Gloria, Gloria, Alleluia Gloria, Alleluia Gloria, Gloria, Alleluia Il suo messaggio di potenza e verità Jammeri cesserà Gloria, gloria, alleluia Gloria, gloria, alleluia Gloria, gloria, alleluia Gesù è vincito Gloria, gloria, alleluia Gloria, gloria, alleluia Gloria, gloria, alleluia Gloria, gloria, alleluia Gesù è vincito Rivolgiamo la nostra attenzione alla lettura della parola di Dio, così come la troviamo scritta nel libro della Genesi al capitolo 31 dal verso 13. Io sono il Dio di Betel, dove tu versasti dell'olio su una pietra commemorativa e mi facesti un voto. Ora, alzati, parti da questo paese e torna al tuo paese natio. Rachele e Lea gli risposero Abbiamo forse ancora qualche parte o eredità in casa di nostro padre? Non ci ha forse trattate da straniere quando ci ha vendute e ha per di più divorato il nostro denaro? Tutte le ricchezze che Dio ha tolto al nostro padre sono nostre e dei nostri figli. Fa dunque tutto quello che Dio ti ha detto. Allora Giacobbe si alzò, mise i suoi figli e le sue mogli sui cammelli e portò via tutto il suo bestiame, tutti i beni che si era procurato. Il bestiame che gli apparteneva e che aveva acquistato in Paddan Aram per andarsene da suo padre Isacco nel paese di Canaan. Possiamo sedere. Il nostro soggetto è alzati, parti e torna al tuo paese. Lo ripeto, alzati, parti e torna al tuo paese. Ricordiamo un po' la storia biblica del fatto Giacobbe aveva un nome significativo, indicava davvero la sua natura, imbroglione. E imbroglione fu. Ma pur carpendo e storcendo con l'imbroglio la primogenitura come suo diritto e pur chiedendo e ottenendo con uno stratagemma la benedizione di Dio, alla fine per quante ne ha fatte al suo fratello Esau è costretto a fuggire sul suggerimento della madre che disse tuo fratello sta aspettando che papà muoia e poi ti ucciderà. E una mamma difende sempre i figli. Così lui si ritrovò in una situazione difficile e andato in un paese che era il paese di origine della sua mamma per prendere moglie. Per amore di verità ne ha prese più di uno. E il motivo è che ancora sapete che chi ha un minimo di conoscenza biblica non c'era ancora stata data la legge di Mosè. Sarebbe intervenuta molto tempo dopo. A quel tempo si sapeva solo che Dio aveva indicato come strada la monogamia, una moglie. Difatti fece il Signore e creò solo una Eva, non due, tre e quattro. E però un certo Lamech, discendendo da Adamo, andò e prese più di una moglie. Così da quel tempo si stabilì l'uso per chi lo voleva della poligamia più moglie. E chi combina certe cose poi ne combina pure altre. Questo Lamech non solo prese più mogli, ma fu anche un assassino. Coppì alcuni e li uccise. Perché non dobbiamo meravigliarci. Un abisso chiama un altro abisso. Un peccato chiama un altro peccato. E questa storia va contestualizzata così. Va per trovare moglie, ma lo zio o suocero lo imbroglia. E invece di una figlia, gliene fa avere due in cambio di lavorare gratis. Per sette anni, più sette anni, quattordici. E voglio dirvi che normalmente l'andazzo del tempo era che il papà della donna pagava una dote. Questo Labano, suocero zio di Giacobbe, invece praticamente l'ha avuta. E l'imbroglione Giacobbe trova un altro che più imbroglione di lui. Però devo dirvi che c'è un Dio nel cielo. C'è un Dio nel cielo. E questo Dio difese lui il turlipinato Giacobbe. E lo benedisse più volte, aiutandolo, arricchendolo, benedicendolo. Non era però lì che doveva stare. E quando lui si avviò, dopo un messaggio divino, a tornare a casa, la Bibbia dice che suo fratello gli andò incontro. Per la verità, lui fraintese, essere accolto da 400 uomini armati poteva significare tante cose. Poteva significare un battaglione che ti rende l'onore delle armi. Poteva anche significare un battaglione che ti vuole ammazzare. A te, a tutti i tuoi, per quante ne hai combinate. Ma grazie a Dio non andò così. Esaù ha avuto, per grazia di Dio, un atteggiamento benevolo. E ha invitato suo fratello, vieni da me. Lo voleva ad Edom, che nella Bibbia è anche chiamato Monteseir. E anche Idumea. E Dio però non aveva detto ad Abramo, Isacco e poi Giacobbe, ti darò Edom, seppur ideale militarmente, perché era una roccaforte naturale. Solo dopo molti anni rispetto a Israele, Edom fu sconfitta e deportata, ma fu difesa per lunghi anni da questa posizione di fortezza naturale. Giacobbe, che non aveva nessuna intenzione di andare da Esau, ma di stare nella terra promessa, gli disse io me ne verrò pian piano al passo del bestiame che mi precederà e al passo dei bambini finché arrivi a Seir, a Edom. E qua, apriamo e chiudiamo una parentesi, un po' Giacobbe è rimasto. Ha ancora bisogno del Signore. Lui non ci voleva affatto andare a Seir, a Edom. Anche perché Dio lo voleva in Canaan. E noi dovremmo avere il coraggio di dire il punto di vista di Dio. Dovremmo avere il coraggio di dire anche a chi ci offre la migliore delle proposte, ma non è questo ciò che Dio mi ha promesso. Dio lo voleva pellegrino. La Bibbia dice tutti costoro sono morti nella fede senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Dunque Dio voleva, abriamo, Isacco e Giacobbe, a pellegrinare nella Palestina, andando avanti e indietro alla ricerca dei migliori pascoli per crescere i migliori armenti e il miglior greggio. Quando lui obbedì, partì e se ne andò, arrivò a Sicem e improvvisamente il pastore Giacobbe vuole diventare l'agricoltore Giacobbe. A Sicem compra terra, edificò un altare, non dimenticò Dio, ma lui non era stato chiamato a fermarsi, a comprare casa, oggi diremmo. Era stato chiamato a essere un forestiero, un pellegrino nella terra promessa. La prima lezione che impariamo è alzati, parti e torna al tuo paese e ci parla di un invito divino necessario. È un invito che Dio gli fa perché a Sicem restò ben dieci anni. Dio gli aveva detto di tornare dove era, non di rimanere a Sicem, ma gli affari andavano bene e dimenticò un po' tutto. Ben trent'anni prima aveva fatto un voto e se tornate indietro con le vostre Bibbie al capitolo 28 della Genesi troverete scritto e questa pietra che ho eretta come monumento sarà la casa di Dio. Di tutto quello che mi darai io certamente darò la decima, Signore. Sarà la casa di Dio. Quindi Giacobbe intende tornare ad adorare, tornare a quella che per lui è la casa di Dio perché lì Dio gli si è rivelato. Sapete che sono tempi difficili e il Covid ha prodotto una parte dei cristiani che si sono abituati a un cristianesimo virtuale e alcuni, incoscientemente aggiungo, hanno insegnato che le chiese non sono importanti, tanto puoi farti culto seduto nel divano e seguire Facebook, ma non è così. Io certamente tornerò alla casa di Dio dove tu, Signore, ti sei rivelato e voglio dirvi che Dio è dovunque, attorno a noi, in noi, ma ha stabilito un luogo dove i figli di Dio si riuniscono come noi adesso e insieme, in presenza, non virtualmente, ma realmente, cercano del Signore. Difidate di chi vi dice non abbiate una chiesa, uscite dalle chiese, abbiate invece questa fiducia che ognuno abbia una propria chiesa. Scegli liberamente dove, come, quando, fai in maniera che sia una chiesa chiesa vicina alla parola di Dio, con Cristo al centro, con la verità dell'Evangelo, senza adulterazioni, aggiunte, togli, metti. È scritto, infatti, maledetto chi aggiunge, maledetto chi toglie alle parole di questo libro. Aveva fatto un voto e Salomone dirà, nel suo libro dell'Ecclesiaste, quando hai fatto un voto a Dio non indugiare ad adempierlo perché egli non si compiace degli stolti. Adempi il voto che hai fatto. È probabile che qui ci sono persone che hanno fatto delle promesse a Dio, dei voti. E il primo che abbiamo fatto è quando siamo scesi nelle acque del battesimo, alle mie spalle, questa porta è scorrevole, e c'è la vasca del battesimi. Se piace al Signore, non tra molto avremo un nuovo servizio di battesimi. È importante fare questo voto. Prometto di servirti per vita e morte. Abbiamo fatto questo passo alcuni un po' di tempo fa, altri moltissimo tempo fa e non so come sia possibile che molti dimenticano la data, ma se proprio questi molti hanno problema di memoria, sulla Bibbia c'era un vecchio uso di scrivere nome e cognome e data del battesimo in acqua e con lo Spirito Santo. Se hai problemi di memoria fa così, scrivilo là. Io ricordo la mia 25 dicembre 1970, tanti, tanti anni fa. Felice di averlo fatto ad appena 14 anni dopo che il Signore mi battezzò nello Spirito Santo. È un invito divino necessario. Dio gli parlò. E Dio gli parlò perché volle anche strapparlo ad alcuni pericoli. Per esempio, l'influenza ambientale che produceva idolatria. Sapeva molto bene, Giacobbe, che Rachele, una delle mogli, si era rubata agli idoli domestici. C'è chi si è chiesto perché erano così idolatri? Beh, non lo erano proprio nel senso letterale e religioso, piuttosto in senso finanziario. Se tu avevi gli idoli di casa tua, potevi dimostrare il diritto a una proprietà. E loro vanno via, ma volevano tutelarsi. Io ho un'eredità che mi spetta, papà non mi ha dato niente. Nella lettura abbiamo già letto qualcosa del genere riguardo a un'eredità mancata. Ma Giacobbe, spinto da Dio che gli parlò, disse alla famiglia, leggiamo nella Bibbia, togliete gli dei stranieri che sono in mezzo a voi, purificatevi e cambiatevi i vestiti. Togliete gli dei stranieri che sono in mezzo a voi. Fu necessario che Dio gli parlasse per toglierli? E domanda, un figlio di Dio avrebbe proprio bisogno di sentirsi dire «Togli gli idoli da casa tua?» Dovremmo farlo da soli. Pastore, ma noi non abbiamo idoli a casa nostra. Ve ne elenco qualcuno. Quella corsa o quella persona che ha il primo posto a casa tua. Quello è un idolo. Oh, indubbiamente, non è fatto da mano d'uomo, non ha il problema di orecchi e non sente bocca e non parla naso e non odora mani e non stringe piedi e non cammina. Ma idolo è anche tutto questo. Avere qualcosa al primo posto. E pensando a questo tipo di idoli che Giovanni scrive a credenti e quindi persone già cristiane nella prima epistola di Giovanni, l'ultimo versetto della sua epistola di cinque capitoli dice «Figlioletti, guardatevi dagli idoli. Figlioletti, guardatevi dagli idoli». Qualche volta un idolo può essere un idolo per qualcuno e per un altro no. Per qualcuno può essere una cosa indispensabile, per altri no. Se bere è troppo indispensabile per te, ti supplichiamo di non bere. Se fumarti una canna è un problema che ti rende servo di questo, non lo fare. come può accadere un miracolo del genere? La Bibbia, la parola di Dio dice «Sono stato crocifisso con Cristo e la vita che vivo ora la vivo nella fede del figliolo di Dio il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me». Così puoi essere una persona libera da ogni idolatria. Il Signore gli disse anche attraverso Giacobbe alla famiglia «Levate gli dei stranieri purificatevi cambiatevi i vestiti». Sapete che non tutti onorano il luogo sacro dove si riuniscono come popolo di Dio vestendo in modo consone ma quella famosa frase che oggi è molto di moda negli ambienti religiosi «Vieni come sei» andrebbe completata con «Vieni come sei» e vattene trasformato perché la grazia ci trasforma la grazia ci cambia e abbiamo visto persone arrivare in un modo e diventare in un altro modo amando e servendo il Signore. La scrittura dice che diedero a Giacobbe gli dei stranieri che erano nelle loro mani gli anelli che avevano agli orecchi cioè gli orecchini e Giacobbe li nascose gli orecchini di solito a quel tempo indicavano la posizione sociale per esempio gli schiavi non avevano orecchini l'avevano le persone libere queste cose gli orecchini a volte erano addirittura talismani amuleti pagani infatti se leggete nel capitolo 35 dove questi eventi sono spiegati troverete che prima si dice togli gli idoli e poi si dice di levare i gioielli perché questo? Per questo motivo perché a quel tempo spesso erano talismani quel che un napoletano non credente crede essere un corno rosso per loro erano questi orecchini talismani che proteggevano dicevano loro dalla cattiva sorte e nel nuovo testamento nel nuovo testamento San Pietro dice il vostro ornamento non sia quello esteriore che consiste nel mettersi addosso gioielli d'oro e Paolo a Timoteo dirà le donne si vestano in modo decoroso con pudore e modestia non di oro o di perla vedete il nostro è un cristianesimo dell'interiorità non dell'esteriorità il nostro è un cristianesimo che punta alla radice al cuore se Gesù cambia il mio cuore cambiano i miei gusti non amo più l'esteriore amo l'interiore e la potenza dell'ambiente è forte sono stati così influenzati dai vitelli d'oro che appena Mosè scompare per 40 giorni perché è sul mondo a ricevere i comandamenti subito fanno un vitello d'oro e dicono questo è il Dio che ti ha tratto fuori ahimè si prestò anche a Ronne a dare una manina e poi nel più infantile dei modi dice a Mosè quando arriva hanno portato l'oro e ne è venuto fuori questo vitello neanche il mio nipotino di un anno immaginerebbe una cosa del genere come sarebbe possibile che tu porti l'oro lo metti sopra il fuoco e diventa un vitello lo devi formare per essere un vitello perché lo fecero perché la permanenza in Egitto li incoraggiò a riprodurre l'idolatria ma Dio parla ai nostri cuori e ci dice uscite di mezzo a loro separatevi da questo dice il Signore non toccate nulla di impuro e io vi accoglierò ma c'è ancora un'altra cosa alzati parti e torna al tuo paese detto a Giacobbe ci parla di un invito divino realizzato perché la scrittura precisa Dio disse a Giacobbe Dio disse a Giacobbe avrete notato le tre caratteristiche dell'invito alzati vai ad abitare la farai un altare sono tre costanti che ci devono accompagnare tutta la vita alzati contro ogni negligenza alzati contro ogni pigrizia alzati contro ogni prolungata attitudine passiva alzati e quando il diavolo ti dice di non venire nella casa del Signore senti bene che ti sta dicendo il Signore ti sta dicendo alzati e quando lo farai scoprirai un mondo positivo con persone di fede che celebrano il nome del Signore e quando veniamo ai culti che la nostra fede si alimenta che i nostri cuori sono benedetti e che noi possiamo avere la benedizione del Signore questa benedetta parola di Dio a Giacobbe fu un invito che fu seguito da un'ubbidienza dice che costruì l'altare e chiamò quel luogo El Betel che vuol dire non più Betel casa di Dio ma l'idio della casa di Dio questo la dice lunga riguardo all'uso negativo di alcuni vieni in chiesa che il Signore ti salva non c'è una chiesa che salva anche se ci sono delle chiese che dicono di sì parlo di ambienti fuori del cristianesimo nostro inteso in senso evangelico pentecostale ma devi venire all'idio di Betel non alla casa di Dio per essere salvato ma all'idio della casa di Dio vi ricordo che c'è un solo Dio con una sola fede con un solo battesimo con una sola fiducia in questo Dio che trasforma le situazioni è a Lui che dobbiamo andare perché non c'è alcun altro nome per il quale conviene essere salvati se non il nome di Gesù grazie Signore per questa realtà e siamo così grati a Dio che possiamo andare a Lui e Lui ci benedirà e ci aiuterà quando Lui Giacobbe decide di partire e di andare ad obbedire finalmente al voto che ha fatto e di riprendere a fare il pellegrino e non l'agricoltore e non il cittadino di Sichem Dio dice che sparse il suo terrore e nessuno lo colpì le carovane di solito erano attaccate e 30 km oggi con l'automobile li fa in poco tempo dipende dall'uso dell'acceleratore ma 30 km con bestiame figli appresso sono un vero e proprio viaggio e nessuno li toccò perché se io e te obbediamo al Signore lui dice che sarà la nostra avanguardia la nostra retroguardia e io sarò con te dice il Signore non ti lascerò e non ti abbandonerò perché io ti ho scolpito in palma di mia mano dice il Signore e sarò con voi ogni giorno fino alla fine dell'età presente alzati parti e torna al tuo paese ci parla infine di un invito divino fruttuoso che produsse santità perché Dio gli disse il tuo nome non sarà più Giacobbe ma perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini hai vinto tu ti chiamerai Israele colui che lotta con Dio il principe di Dio grazie Signore per questo grande Dio che tu sei per noi non è restato più lì se ne va dal luogo dove i costumi della famiglia stavano decadendo smette di abitare un terreno e ritorna a fare pellegrino perché Dio ci teneva tanto perché il Signore uno vuole che non mettiamo radici e allora dobbiamo sempre cambiare città pastore dobbiamo sempre cambiare casa paese no ma non devi metterci il cuore perché Dio potrebbe chiamarti e dire Abramo Giacobbe esci dal tuo paese e vai nel luogo che io ti indicherò e Dio lo chiamò Israele gli cambiò il nome voglio dirvi che fu fruttuoso questo messaggio di Dio a Giacobbe ebbe una benedizione Dio gli disse io sono il Dio onnipotente ricordate a chi si è rivelato così a suo nonno ad Abramo quando gli disse a 99 anni apparendogli io sono il Dio onnipotente abbiamo un bellino che parla dei nomi di Dio e uno è questo io sono il Dio onnipotente prima benedizione dopo questo una moltitudine di nazioni discenderà da te dei re usciranno dai tuoi lombi e poi una benedizione materiale darò a te e alla tua discendenza dopo te il paese che ti è dato a Abramo e ad Isacco non c'è niente da scoprire di nuovo la nostra fede è la stessa degli apostoli la fede una volta per sempre insegnata ai santi oggi dimenticando la vecchia regola matematica alcuni sconvolgono l'ordine naturale ciò che è stato fatto di solito all'inizio si fa alla fine quello della fine si fa all'inizio ma cambiando l'ordine degli addenti il risultato sapete quale resta invece ciò che è importante è conservare la fede una volta per sempre insegnata ai santi ricordando la regola d'oro non oltre quel che è scritto alzati parti e torna al tuo paese è il Signore che ci dice questo e noi vogliamo accettarlo ma sono venuto meno potrebbe sentirsi dire nell'orecchio dal diavolo qualcuno adesso Dio ti dice se uno cade non si rialza forse se uno si svia non torna egli indietro così questo è il tuo momento è la tua ora è la tua occasione puoi tornare al Signore smetti la passività di un cristianesimo monotono e non autentico e accetta l'invito alzati parti e torna al tuo paese grosso modo le cose sono così vieni ai culti sei benedetto da Dio con le tue sorelle e i tuoi fratelli in Cristo e il giorno dopo metterai a frutto ciò che Dio ti ha dato abbiamo un equilibrato senso dei culti nella nostra chiesa che ci consente di venire fare la sera il nostro culto e il giorno dopo e ancora il dopo avere la possibilità di spendere queste energie spirituali non privarti della benedizione di Dio a me e a te Dio dice oggi alzati parti torna al tuo paese a lui con il cuore io ti chiede c'è qualcosa che sia un po' difficile per me sulla parola forza a ti confida nel Signore con Dio è possibile si tutto è possibile e e e e e e e e e